Ciao, è tornato a trovarci Luca Lombardo, trasformista, mago, attore, circense, ma anche scolaretto vedo, ma carino, ma scusa che cos'è, la prima elementare? Sì, è la prima elementare, perché a me Caterina, l'estate, quando finisci mi porta un senso di malinconia, mi ricorda l'infanzia, infanzia, la prima elementare, io ho portato qua solo per te l'abbecedario, te lo ricordi l'abbecedario? No, però va bene, un attimo, l'abbecedario in realtà non era il mio, eccolo qua, era quello di mio padre Caterina, ah certo, ti devo aiutare? No, 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 se ti metti un po' più là ti faccio vedere una cosa, perché quando siamo bambini il tempo passa velocemente, tu sei lì con il libro che studi, e ti do la seconda elementare. Però, avevo capito subito che ero diverso dagli altri ragazzi, perché i miei amici cambiavano solo il fiocco del colore, io cambiavo tutto il game rule, perché io sono nato trasformista, allora ero lì, mi mettevo a studiare per ore e ore. Poi sono andato in terza, quindi questa è la terza elementare, dal verde all'azzurro, a Napoli si mette azzurro alla terza elementare, perché ogni regione poi cambia il colore, la scuola, e poi cosa è successo? Mi sono messo a studiare, io in terza elementare andavo una bomba, bravo, e poi? E poi in quarta elementare. Ma pure io avevo il fiocco giallo, perché la mia insegnante diceva, giallo è un colore che sta bene a tutti. Erano altri tempi, Caterina, la sentite, la passione, e poi dopo la quarta elementare ci fu la... E la quinta? E perché sei sempre col giallo, la quinta elementare? No, la quinta, la quinta. Sì, la quinta, vai. Ma è sempre giallo? Perché? Che è successo in quinta? Caterina, non so come dirtelo, io in quarta elementare sono stato bruciato. La terza una bomba, la quarta, e poi niente, poi sono stato lì, perché praticamente, ora te la confesso questa cosa, la ricordi questa canzone? Vai, mi rialza! Io ero come lui, ero come i protagonisti del prossimo filmato. Guarda, non ero uno studente moderno. Ma Gian Burrasca? No, Gian Burrasca e poi Pinocchio. Guarda qui. Comincerai ad andare a scuola? Sì, però per andare a scuola mi ci vuole un vestito e una becce d'anno. E te i soldi per comprarmi non ce l'hai. Beh, scusa, poi come è andata a finire questa faccenda? Sei riuscito a superare la quarta elementare? Sì, ho risolto la situazione, mi hanno rinchiuso nella scuola per anni, anni e anni. No, te l'ho messo in collegio? In collegio, tanti anni, io studiavo tantissimo, tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Sai che è successo alla fine? Cosa è successo? L'hanno fatto professore! Ma non professore qualsiasi, uno dei vecchi tempi, quelli precisi, con passione. Luca, dalla quarta elementare a professore, solo tu? Eh, così, sommato, sommato. E com'è andata con gli studenti? E' bocciato qualcuno in quarta elementare? Tutti promossi. Bravo, bravo, bravo. Luca Lombardo è tornato con noi. E allora salutiamo tutti i professori che hanno cominciato questo nuovo anno scolastico. Lo facciamo con un professore per eccellenza.